La campagna elettorale è molto dura, ci saranno delle conseguenze? Sarà più difficile fare il sindaco? No, 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 assolutamente no, non è stata dura, è stata una campagna elettorale serena, entusiasmante, partita in molta salita ma sicuramente strada facendo si è sempre più affievolita, bella, entusiasmante, no, non è stata dura. Cosa sarà la prima cosa che farai da sindaco? La prima cosa che farai da sindaco è innanzitutto aprire tutte le porte del comune ai cittadini e poi affrontare degli argomenti più importanti e più caldi che sono la turbogas e parlare con i cittadini di San Vincenzo in merito alla discorso. E a tutti i cittadini invece oggi sull'onda dell'entusiasmo di questa elezione cosa vuoi dire? Che da domani trovano un sindaco disponibile, in grado di parlare con tutti, che si metta a servizio del prezzo. Spero che da domani ho dei cittadini che iniziano a bussare alla parte, saprò rispondere e comunicare con tutti, sia quelli che mi hanno sostenuto che noi, assolutamente sì. Buon lavoro. Grazie, grazie a tutti.